Oggi parleremo essenzialmente di finanziamenti gestiti a gestione diretta, di finanziamenti e gestione diretta. In pratica guarderemo le differenze tra le due tipologie di finanziamenti ed entreremo poi ad esplorare nello specifico i programmi che finanziano l'ambito culturale sia a livello diretto che a livello indiretto. Iniziamo subito facendo una premessa. Cosa significa gestione diretta e cosa significa gestione indiretta? Ovviamente come dice la parola stessa la gestione diretta significa che stiamo parlando di finanziamenti europei che vengono gestiti direttamente quindi dalla Commissione europea. Abbiamo visto la scorsa volta nel primo modulo che la Commissione europea si serve di direzioni generali per raggiungere i suoi obiettivi e quindi per erogare finanziamenti. Assegna un budget a ciascuna direzione, direzione che a sua volta cosa fa? Tramite dei programmi europei va ad erogare questi fondi, cioè li mette a disposizione dei paesi europei. Quindi questi fondi che vedremo ora sono fondi a gestione diretta perché in pratica il nostro interlocutore quando andiamo a preparare un progetto è direttamente la Commissione europea, quindi Commissione europea per il suo tramite la direzione generale. alcuni fondi che pur essendo gestione diretta hanno come interlocutore, quindi come autorità di gestione del fondo stesso, non la Commissione europea ma il Ministero. La gestione invece indiretta, quindi quando sentiamo parlare, avrete sicuramente sentito parlare spesso e volentieri di fondi indiretti, come dice la parola stessa, questi fondi vengono gestiti quindi indirettamente dalla Commissione europea. Perché cosa fa la Commissione europea? Li gestisce tramite gli stati membri, quindi assegna delle quote agli stati membri e a loro volta gli stati membri assegnano questi fondi alle regioni. I programmi a gestione diretta hanno un funzionamento particolare nel senso che vengono creati dalla Commissione europea attraverso un regolamento. Ma come si strutturano questi programmi diretti? Si strutturano, come fa la Commissione europea a derogare questi finanziamenti? Lo fa tramite le call for proposals, cioè gli inviti a presentare proposte, quindi dei bandi, che normalmente sono dei bandi annuali. Ci possono essere anche dei bandi non annuali legati a delle azioni spot che la Commissione può decidere di organizzare e che comunque, come vi aveva spiegato nel primo modulo, abbiamo un modo di intercettare se andiamo ad esaminare in uno specifico il bilancio dell'Unione europea. Perché all'interno del bilancio comunque ci sono degli stanziamenti che vengono lasciati liberi, tra virgolette, dai programmi stessi proprio per delle iniziative particolari. Comunque, avendo i programmi diretti una durata ampia, la durata ampia del programma mette comunque noi stessi nelle condizioni di poter programmare il nostro progetto e quindi andare a scegliere il programma che meglio si avvicina a quelli che sono i nostri obiettivi, a strutturare il nostro progetto e ad aspettare che poi la commissione lanci, o comunque la direzione generale, lanci l'invito a presentare proposte. Una cosa che ci tengo, diciamo prima di tutto, a chiarire è la differenza che c'è tra i programmi a gestione diretta e i programmi a gestione indiretta e questo voglio che sia chiaro fin da subito. Quando noi scriviamo un progetto possiamo decidere appunto se farlo finanziare direttamente da un programma che è gestito in maniera diretta dalla commissione europea, oppure se presentarlo e farlo finanziare dal nostro Stato tramite diciamo lo Stato tramite le nostre regioni. Quali sono diciamo le caratteristiche principali tra programmi diretti e i fondi strutturali e perché dovrei scegliere uno piuttosto che dell'altro. Prima di tutto io non devo scegliere se inserire il mio progetto all'interno e farlo finanziare tramite un programma diretto o tramite un fondo strutturale, perché vedremo che il mio obiettivo può essere comunque finanziato direttamente o indirettamente dalla commissione europea. Quindi all'interno del mio progetto io posso avere delle azioni che possono essere finanziate sia con dei programmi diretti sia con dei programmi a gestione in diretta. Parleremo infatti di una matrice di finanziabilità che aiuta, mi aiuta a fare che cosa? A fare in modo che io possa capire se quell'azione che voglio inserire il mio progetto sia più vicina a quello che finanzia un fondo, un programma a gestione in diretta o più vicina a un programma a gestione diretta. Io posso benissimo appunto fare questo match tra gestione diretta e gestione in diretta, soprattutto perché i programmi a gestione diretta della Commissione europea, cioè dell'Unione europea, finanziano per lo più delle azioni immateriali, per esempio scambi di buone pratiche piuttosto che progetti legati alla formazione, progetti di mobilità, mentre con i fondi strutturali, quindi con i fondi a gestione in diretta che vengono gestiti direttamente dagli stati membri per il loro tramite dalle regioni, ci sono anche dei fondi che vengono gestiti direttamente dalle città metropolitane, cosa faccio? Vado invece a finanziarmi quelli che sono delle azioni tipo immateriale e questo è importante, scusate materiale, nel senso che sono per lo più investimenti, quindi se nel mio progetto io avrò la costruzione di una pista ciclabile, la pista ciclabile difficilmente me la posso far finanziare da un programma a gestione diretta, il mix ci sta, ci deve stare ed è un qualcosa che va ad arricchire il mio progetto, come vi dicevo prima, cioè le caratteristiche diciamo di questi fondi sono innanzitutto la gestione, dopodiché le azioni finanziate, che io all'interno del progetto di costruzione della pista ciclabile mi metta comunque in contatto con la commissione e faccia un progetto specifico che mi finanzi appunto questo studio di fattibilità, dopodiché una volta fatto il mio studio la realizzazione me la faccio finanziare con dei fondi a gestioni diretta, se io voglio fare un progetto legato alla formazione, se questo progetto di formazione me lo faccio diciamo finanziare, ve lo inserisco all'interno di un programma a gestione diretta, avrò bisogno di cercarmi dei partner europei, perché la commissione come principio base va a finanziarmi questo progetto essenzialmente se io sono in grado di trovarmi dei partner che vanno diciamo ad arricchire il mio progetto stesso, mentre per quanto riguarda i fondi a gestione diretta io non avrò bisogno di partner europei. Tornando diciamo alla gestione, ai programmi di gestione diretta, le azioni sono normalmente appunto non strutturali, vi dicevo prima che i programmi diretti quindi vengono, cioè nascono da una decisione, da un regolamento che al cui interno vengono fissati dei paletti specifici legati appunto agli obiettivi, le priorità del programma stesso. Vi ho detto che il programma ovviamente dura 7 anni e la commissione però cosa fa? Per utilizzare diciamo quelli che sono gli obiettivi generali del programma, estrapola questi obiettivi e di volta in volta pubblica degli inviti a presentare proposte. Gli inviti a presentare proposte servono appunto per e danno la possibilità a noi di presentare il nostro progetto, senza l'invito a presentare proposte non potremmo appunto presentarle e quindi presentare il nostro progetto. Nell'invito cosa si fa? Andremo a esaminare la prossima volta però vedrete che all'interno dell'invito viene recepito ovviamente uno degli obiettivi specifici contenuti nel regolamento e nell'invito la commissione cosa fa? Mette a disposizione un budget specifico legato proprio a un obiettivo che vuole realizzare tramite questo invito che discende come ho detto prima dal regolamento generale. La commissione però non si muove soltanto tramite le call. Si muove anche tramite quelle che sono le call for tenders, quindi le gare d'appalto. Gare d'appalto che vengono gestite in modo completamente differente rispetto alle call for proposals, perché le gare d'appalto sono come le nostre gare d'appalto, nel senso che nella gare d'appalto la commissione sta cercando qualcuno che possa realizzare un'azione sua specifica e soprattutto nella gare d'appalto il fine della commissione è un fine di natura commerciale, mentre nelle call for proposals, quindi legate alla gestione dei fondi, la gestione diretta dei fondi della commissione, abbiamo un fine di natura istituzionale e non certo commerciale e soprattutto la finalità della commissione qual è? È quella di dare la possibilità a noi tutti, a noi beneficiari, di realizzare un nostro obiettivo, mentre nelle gare d'appalto cosa si realizza attraverso le call for tenders, è direttamente un obiettivo della commissione stessa, quindi la differenza è, potete capire che è notevole. Inoltre un altro aspetto importantissimo è che a livello diciamo di finanziamento che viene erogato dalla commissione, mentre nei fondi a gestione diretta e a gestione indiretta la quota che viene messa a gestione e la disposizione della commissione è una parte di quella che va a costruire, viene concepita per creare il nostro bilancio, nelle call for tenders il finanziamento della commissione europea è un finanziamento pari al 100%, perché è una gara d'appalto. Un'altra tipologia di finanziamento sono i fondi legati alla Banca Europea degli investimenti, quindi alla BEI, che anche lei eroga dei fondi e gli eroga soprattutto sono fondi per lo più legati agli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e sono fondi che assomigliano soprattutto ai fondi strutturali, perché vanno praticamente a sostenere le infrastrutture. Queste sono tipologie diciamo di fondi che vengono appunto messi a disposizione della BEI, che soprattutto per le imprese cosa fa? Eroga appunto delle anticipazioni, eroga anche una quota a fondo perduto, però è una minima quota e per lo più va a sostenere dei progetti specifici che le imprese possono presentare e tramite appunto dei prestiti molto vantaggiosi ed agevolati. Se nei locali non possono accedere direttamente a questi fondi, perché come ho detto prima, sono fondi rivolti soprattutto alle amministrazioni centrali dello Stato. Allora, cominciamo a disaminare quelli che sono i programmi comunitari che vanno a gestire le attività del settore culturale. Sono tanti programmi europei che possono finanziare comunque dei progetti legati all'ambito culturale o all'ambito bibliotecario, quindi è giusto conoscerli ed è giusto comunque considerarli quando si fa un esame, si comincia diciamo ad analizzare su quali programmi posso comunque far rientrare il mio progetto, posso trovare dei finanziamenti che possano appunto supportare il mio progetto. Questa cosa vale diciamo come promessa. Cominciamo da quale programma? Cominciamo da un programma particolare perché è rivolto soprattutto all'ambito dell'economia, cioè della competitività delle imprese, però da una parte ha anche un ambito specifico che riguarda appunto all'ambito culturale e turistico. Questo programma appunto si chiama COSME ed è legato come dicevo prima allo sviluppo delle piccole e medie imprese che abbiamo visto anche la volta scorsa è una tematica che sta molto a cuore della Commissione europea, quindi lo sviluppo e il fatto comunque anche del rafforzamento della competitività delle imprese e anche lo scambio reciproco tra le imprese stesse. E questo programma va a finanziare che cosa? Anche delle tematiche, delle azioni che riguardano in particolare la sostenibilità delle piccole e medie imprese nel settore del turismo e della della cultura, quindi è importante comunque saperlo e conoscerlo proprio perché è qualcosa che può diciamo aiutarci a finanziare dei progetti se decidiamo di entrare, se siamo una pubblica amministrazione ovviamente non siamo beneficiari diretti di questo programma ma lo diventiamo indirettamente nel momento in cui c'è un'impresa, una piccola media impresa del nostro paese che decide di fare un progetto legato all'ambito culturale e ci coinvolge direttamente. Vi ho riportato il bando che al momento è aperto all'interno di questo programma e che riguarda un obiettivo specifico di quest'anno ma non solo di quest'anno che è legato appunto all'economia sociale, quindi che è, vi ho detto prima appunto che la cultura è comunque una tematica trasversale, il fatto comunque che all'interno di questo bando si parli di collaborazione di imprese legate all'economia sociale ha comunque una ricaduta diretta anche sull'ambito culturale. All'interno diciamo di questo bando le azioni che sono finanziabili riguardano soprattutto lo scambio di buone pratiche e cominciare a mettersi in rete, quindi a conoscere altre piccole e medie imprese che stiano ragionando in termini di innovazione sociale, di economia, come detto prima sociale e questo può essere appunto preso in considerazione e quindi si può pensare appunto se vogliamo di andare a creare, a fare, a preparare un progetto specifico che vada poi a finanziare questo aspetto. Io ho preparato tra l'altro anche un elenco di link che vi aiutano a capire dove trovare, a trovare le informazioni che vi sto illustrando perché appunto questi link sono legati ai programmi che vi sto illustrando e riguardano direttamente appunto il programma COSME che vi ho illustrato adesso. Qui appunto questa è la pagina della Commissione Europea, una delle pagine che abbiamo visto la volta scorsa e all'interno di questa pagina troviamo quello che io vi ho riassunto nella slide, quindi le attività che sono finanziabili e vedete che ovviamente oltre alle tipologie di attività vi dice quali sono i beneficiari di questo programma e le proposals, quindi sono quelli che vi ho detto prima, riguardano il bando che vi ho illustrato poco fa con una scadenza del 9 giugno. Vedete che mette sempre anche l'orario delle 17 perché la presentazione dei bandi avviene tramite la piattaforma e quindi piattaforma che si chiude, chiude le sue finestre alle 17 e è importante anche partecipare se siete interessati a questo programma, anche webinar che vengono organizzati. Una volta si facevano i fodei e quando si poteva partecipare direttamente, adesso si fa tutto ovviamente online e chi c'è già stato, gli infoday sono un momento, in questo caso i webinar sono dei momenti molto importanti perché ci aiutano a entrare in contatto con i partner, quindi se siamo interessati a quel programma specifico, partecipare a un webinar ci consente di capire intanto la Commissione Europea come si sta muovendo su questo bando, che tipologie di partner sta cercando, di partner scusate, di beneficiari sta cercando e noi se siamo interessati attraverso questi infoday webinar abbiamo l'opportunità di conoscere altri partner e quindi altre realtà europee, entrare in contatto, quindi presentare la nostra idea progettuale. Allora questo è appunto il programma COSME, mi sono dimenticata di dirvi che all'interno di ogni slide trovate comunque il link che ad ogni modo riceverete sul file, ve li ho riportati anche sul file separato, comunque all'interno della slide c'è il link diretto. Sempre nell'ambito dell'imprenditoria ci tenevo comunque a farvi conoscere, forse lo conoscerete già, quest'altro programma gestione diretta che si chiama Erasmus per giovani imprenditori, il programma Erasmus credo che sia ben conosciuto da tutti, il programma Erasmus è un programma essenzialmente di mobilità che lo conosciamo perché viene utilizzato spesso e volentieri dagli istituti scolastici. In questo caso il programma Erasmus per giovani imprenditori viene usato nell'ambito delle imprese. Che cosa fa? Aiuta praticamente gli imprenditori e soprattutto quelli giovani imprenditori che stanno avviando la loro attività a entrare in contatto con altri imprenditori, quindi a fare uno scambio di conoscenze che consenta da loro appunto di capire come è il mercato, su quale loro si sono specializzati in un altro paese. Se siamo degli operatori che lavorano all'interno, abbiamo un'impresa di servizi culturali sicuramente questo è un'ottima opportunità per andare a conoscere o per scambiare, a metterci in contatto con altri imprenditori di altri paesi. Attraverso lo scambio l'imprenditore di un'altra realtà cosa fa? Viene da noi oppure noi andiamo da lui, cioè veniamo ospitati nel suo paese, a nostra volta possiamo poi ricambiare questa ospitalità e andare a conoscere questa realtà. Non c'è un bando aperto nel senso che qui basta candidarsi, ci si candida e si deve avere ben chiaro appunto quelli che sono i nostri obiettivi, che cosa stiamo cercando, perché vogliamo fare questo scambio eccetera eccetera. Perché appunto lo scopo è proprio quello di mettere in contatto la nostra realtà con quella di un altro paese. Proseguiamo, quindi parliamo di che cosa? Parliamo appunto di quello che è il programma per eccellenza che va a finanziare l'ambito culturale, che appunto è il programma Europa Creativa e programma Europa Creativa che, come vi dicevo prima, anche questo ha un ambito specifico legato al discorso dello scambio, perché lo va a sostenere, ma non solo. È un programma che tiene soprattutto a sostenere tutti i settori culturali e soprattutto nell'ultimo periodo va a sostenere in particolare modo la mobilità trasnazionale degli operatori e l'aspetto dei film e quindi dei media. Perché appunto l'aspetto cinematografico degli audio video che è quello che è più in sofferenza e quello che sta molto a cuore della Commissione Europea, insieme con lo sviluppo di abilità, di conoscenze da parte delle piccole e medie imprese che lavorano nell'ambito culturale. E soprattutto quello che è un altro aspetto obiettivo di Europa Creativa è quello di andare a creare dei modelli di business nel settore culturale che siano comunque trasversali e intercambiabili a livello diciamo europeo. È un'ambizione molto alta, molto forte, però la Commissione tiene molto diciamo a questo obiettivo specifico. A supportare un aspetto che c'è già, che è quello legato alle piatteforme di collaborazione. Al discorso dei libri e dell'editoria, sul quale comunque la Commissione tiene molto e che vuole rinunciare. E come dicevo prima, il patrimonio culturale e il turismo di natura culturale. Ci sarà maggiore finanziamento anche a quello che è la trasformazione digitale, quindi andare a creare delle piattaforme digitali che mettano a disposizione il patrimonio di natura non solo culturale, ma anche legato diciamo all'editoria e ai libri. Dicevo prima che il programma Europa Creativa si muove attraverso di sottoprogrammi, perché è un programma molto complesso. il sottoprogramma, ha un suo sottoprogramma legato proprio alla cultura, è un sottoprogramma legato ai libri. E c'è un bando aperto? Sì, c'è un bando aperto legato che cosa? Alla traduzione letteraria. Adesso vediamo anche la pagina diciamo del programma Europa Creativa. Questo bando aperto cosa va a supportare? Va intanto l'ambito diciamo della traduzione è legato proprio alla volontà di fare, di potenziare la circolazione diciamo delle opere letterarie. E va, cosa finanzia? Finanzia fondamentalmente la traduzione, non solo ma la pubblicazione, ma anche la promozione di queste opere. Perché ve lo dico? Perché lavorando comunque in ambito culturale, credo che la maggior parte di voi lavori nell'ambito bibliotetario, questo bando va a finanziare anche l'aspetto del marketing, della promozione, quindi attività, eventi legati alla promozione dell'opera tradotta. Perché qui abbiamo una piattaforma all'interno della quale possiamo, se siamo un giovane, se rientriamo diciamo nella fascia dell'età che viene indicata dalla commissione, entriamo direttamente qui a fare la nostra proposta di scambio. Vedete che è una piattaforma, la quale ci si va a registrare e si entra e si fa questa proposta. Si presenta una sorta di mini progetto attraverso il quale andiamo a dare le nostre priorità a quello che vogliamo fare. Mentre sull'Europa Creativa il link che vi ho salvato è quello relativo alle Calls for Proposals. Ripeto, le Calls for Proposals sono punti bandi. Vi ho appena fatto vedere una slide che contiene il bando aperto all'interno del programma Europa Creativa e questa è la pagina dei funding, quindi dei bandi che sono aperti oppure chiusi e all'interno dei quali troviamo proprio gli inviti a presentare proposte specifici. E oltre alle news specifiche relative ai risultati di bandi che si sono conclusi. L'altro link che abbiamo visto anche nell'altro modulo è legato sempre a Europa Creativa, però alla pagina in italiano di Europa Creativa. Un altro programma particolare che potrebbe andare a finanziare il nostro progetto legato all'ambito culturale è sicuramente Erasmus. Il programma Erasmus Plus nasce come programma legato ovviamente all'ambito dell'istruzione e della formazione. E riguarda pur indirettamente l'ambito culturale perché ovviamente seppur mettiamo il caso che siamo in quella biblioteca e vogliamo partecipare a un bando legato all'Erasmus Plus lo possiamo fare ovviamente in partenariato con una scuola. Quindi cosa è che va a finanziare l'Erasmus? Quali sono gli obiettivi di Erasmus? L'obiettivo principale è sicuramente quello di andare a migliorare le capacità di quelli che sono i formatori. Quindi vengono ben visti quei progetti di formazione, di mobilità degli insegnanti, ma non solo. Anche progetti legati alla formazione e apprendimento di persone comunque che sono trovate al di fuori del mercato del lavoro e che si devono comunque formare nuovamente e rafforzare le proprie skills. Ovviamente Erasmus Plus è un programma molto complesso ma molto articolato e all'interno ha delle azioni specifiche che potete leggere appunto nella slide, mi interessa però farvi capire che fondamentalmente le azioni che va a sostenere sono azioni, come vi dicevo prima, essendo un programma a gestione diretta, sono azioni immateriale quindi va a sostenere la formazione a distanza, la creazione di piattaforme di apprendimento piuttosto che il fatto di andare a creare nuove politiche europee sull'istruzione di persone svantaggiate però ovviamente sono tutte azioni di natura immateriale perché ovviamente al suo interno non va a sostenere delle azioni strutturali è ovvio. Vedete che le pagine dei programmi si assomigliano quindi all'interno, proprio perché Erasmus Plus è molto articolato come programma, la commissione cosa ha fatto nelle sue pagine? Ha suddiviso il programma nelle sue situazioni vedete che le situazioni che trovate nella slide sono ovviamente riportate qui. Jean Monnet non ve l'ho neanche fatto vedere perché comunque è un'azione che finanzia soprattutto progetti nell'ambito della formazione universitaria. Poi all'interno di Erasmus Plus però ci sono altre tematiche che vengono appunto sostenute sono azioni che sono diciamo sotto lo stesso tetto di Erasmus Plus ma di fatto riguardano lo sport e i giovani. Il bando aperto ora all'interno di Erasmus Plus è questo qui, cioè quello che riguarda l'inclusione sociale e i valori comuni. Anche qui è ovviamente un bando che va a finanziare l'apprendimento inclusivo, quindi va a rafforzare le competenze digitali di persone che sono digitalmente più svantaggiate. L'ambito che interessa tantissimo la commissione ultimamente è soprattutto l'ambito legato alla formazione degli adulti e quindi è un ambito nel quale, ripeto, possiamo benissimo se siamo una biblioteca, candidarci proprio perché va a favorire appunto queste abilità. Vi dicevo prima che all'interno di Erasmus Plus abbiamo l'ambito gioventù. L'ambito gioventù che è stato riportato dalla commissione sette anni fa all'interno di Erasmus, la gioventù aveva un suo programma specifico, la gioventù. La gioventù invece adesso è stata un po' collegata al discorso della formazione, quindi per questo che è sotto lo stesso petto di Erasmus Plus. All'interno dell'ambito gioventù cosa troviamo? Troviamo tutte quelle azioni che vanno a sostenere l'ambito giovanile, quindi ancora una volta cosa viene finanziata, quali sono gli obiettivi, sono sicuramente quelli di avvicinare i giovani a quelli che sono le politiche dell'Unione Europea. e per fare questo la commissione appunto utilizza quelli che sono un po' il curo dell'educazione. Quindi quello che vuole fare attraverso questo programma è soprattutto quello di andare a formare figure che fanno un po' appunto da mediatori, da animatori che avvicinino appunto i giovani, per avvicinare i giovani al processo europeo, alle politiche dell'Europa. L'ambito diciamo della gioventù è all'interno di Erasmus Plus, finanziazioni che abbiamo visto per Erasmus Plus, quindi le azioni sono soprattutto quelle ovviamente legate alla mobilità, ma non solo, anche lo scambio di buone pratiche o il sostegno alle politiche europee, cioè il fatto che comunque chi sono i beneficiari di questo programma? Sono soprattutto gruppi di giovani, anche gruppi informali di giovani che si uniscono e che appunto presentano, non so se uno vuole partecipare all'azione chiave e sostegno alle riforme delle politiche europee, cosa fa? Prepara un progetto in partenariato con altri stati europei su delle proposte di innovazione legate al rinnovamento delle politiche e quindi sono progetti che a livello diciamo di budget non cubano tantissimo, normalmente non si va oltre ai 20-25 mila euro, però di fatto mettono nelle condizioni i giovani di gruppi, dicevo, di giovani informali anche, di rapportarsi con altri gruppi europei e quindi andando appunto a fare un confronto importante su quelle che sono le politiche. Ancora una volta non possiamo essere, siamo una biblioteca dei beneficiari diretti, possiamo però partecipare come partner di progetto, perché se l'istituzione è un'istituzione, se un'associazione giovanile ci invita a partecipare perché vuole comunque inserire un aspetto legato alla nostra tematica libraria, perché no? Possiamo partecipare ovviamente come partner e anzi, sul cambio in cui partecipiamo. Quelle che sono le tematiche chiave dell'Unione Europea, che sono appunto società inclusive, il dialogo costruttivo, l'Europa verde sostenibile, ovviamente l'aspetto del Green Deal, abbiamo parlato la volta scorsa, è uno degli aspetti chiave della Commissione Europea e lo ritroviamo soprattutto quando parliamo di giovani. Cosa va a finanziare? Le azioni possibili, come vi ho detto prima, sono sempre azioni immateriali, quindi possiamo creare dei patenariati, si possono creare patenariati tra organizzazioni giovanili, fare degli scambi di buone pratiche, andare a creare delle esperienze di mobilità, ovviamente trattando quelle che sono le tematiche del bando stesso, che sono quelle riportate nella slide che ho detto prima. Un altro programma di gestione diretta molto interessante, che è sempre all'interno del gestito da questa agenzia EACEA, è questo programma che si chiama Europa per i cittadini. Europa per i cittadini è un programma che, come quello che abbiamo visto negativo ai giovani, anche in questo l'idea della Commissione è quella di avvicinare i cittadini europei a quelle che sono le politiche, ai cambiamenti, alle sfide che riguardano l'Unione Europea e proprio per aiutarli a capire quelle che sono queste sfide, quelle che sono le politiche dell'Unione. Cosa va a finanziare questo programma e perché ve lo sto presentando? Perché va a finanziare un aspetto legato alla partecipazione civica e lo fa attraverso azioni legate per esempio all'istituzione di gemellaggi, gemellaggi tra città e gemellaggi tra città che possono avere anche come tematica, diciamo, di fondo anche aspetti legati all'ambito culturale. Quindi per questo che ve lo sto presentando, perché appunto all'interno di questo programma possiamo presentare un progetto che riguarda appunto il gemellaggio con un'altra città legato, penso a un autore, a un libro che ci avvicina a uno o più città, sarebbe spiegabile, più città dell'Unione Europea su quali andare appunto a concepirci, a creare un progetto specifico. Ma non solo questo, vedete un'altra azione importante, è proprio quella legata alla memoria europea. Attraverso appunto questa azione la Commissione ha finanziato dei progetti specifici legati a siti attraversati dalla Seconda Guerra Mondiale, dall'Unione degli Ebrei. e posso far sì che posso creare un progetto che invece vada a finanziare dei festival, dei forum, dei workshop specifici su una tematica legato al mio sito commemorativo. Il bando che è ora aperto riguarda proprio memoria europea, gemellaggio di città, reti di città, progetti della società civile, quindi c'è un bando aperto. Ancora una volta, il fatto di presentare un progetto legato alla mia biblioteca, quindi andare a trovare più città per andare a sponsorizzare un libro, un attore, non lo so, adesso mi vengo in mente, tra i punti dei video più geniali, però voi sicuramente sarete in grado di averle o di trovarle, creando appunto le basi per andare a individuare, a creare dei gemellaggi, quindi fare anche degli scambi tra città, quindi ospitare un gruppo di cittadini legati da questa tematica. Anche questo lo troviamo all'interno del sito che vi ho fatto vedere prima, che riguarda appunto il, perché all'interno diciamo di Erasmus+, c'è l'ambito che riguarda i cittadini, europeo per i cittadini, quindi poi un altro aspetto, un'altra tematica molto importante, un altro programma di gestione diretta che sicuramente avrete sentito nominare, è l'Horizon, quindi Horizon 2020, è un programma che riguarda, soprattutto che va a finanziare azioni legate alla ricerca. Ve lo sto comunque proponendo, perché all'interno, seppur essendo un programma legato alla ricerca, quindi il progetto che andrò a presentare è un progetto di ricerca, mi aiuta a poter sviluppare alcune ricerche specifiche legate all'ambito degli archivi e dei musei, perché ha all'interno diciamo di una delle sue Horizon, è il Nelson, infatti non vi ho presentato tutti i sottoprogrammi di Horizon, anche perché lavorando in un ambito culturale, a mio avviso siete anche poco interessati, e quindi non ha molto senso, diciamo che io le presenti tutte. Ma mi interessa questo sottoprogramma che riguarda appunto le società riflessive, perché all'interno di questo sottoprogramma c'è proprio una, c'è la possibilità di presentare un progetto, sempre un progetto di ricerca, che riguarda però che cosa? La memoria, l'identità culturale, da individuare all'interno di archivi e di musei. Normalmente chi si candida o presenta un progetto nell'ambito di Horizon è normalmente un'università o un istituto di ricerca. Come biblioteca possiamo partecipare, come archivio, possiamo partecipare ovviamente, normalmente come partners. i beneficiari diretti sono normalmente appunto le università o istituti di ricerca. Un'altra azione importante che va a finanziare, appunto quello legato al discorso dell'arte, della filosofia, delle religioni, sono tutti, diciamo, temi che sono all'interno, ripeto, di questo sottoprogramma società inclusive, innovative, riflessive, soprattutto società riflessive, che ritroveremo comunque nelle nuove proposte di programma 2021-2027, quindi avrete la possibilità comunque di ritrovarla e di riproporre, se vorrete, un progetto specifico in questo ambito. Il link alla pagina di Horizon è questo, anche la gestione di questi programmi, di questo programma è piuttosto faticoso, quindi presentarlo, farlo finanziare e gestirlo non è cosa da poco. Poi ci sono programmi, sempre a gestione diretta, dell'Unione Europea, che sono molto interessanti, che riguardano però che cosa? Riguardano la cooperazione della Commissione dell'Unione Europea con stati che non fanno parte dell'Unione Europea. Quindi cosa fa la Commissione in questo caso? sviluppa, come abbiamo visto la volta scorsa, delle politiche legate alla cooperazione di natura internazionale e questa cooperazione internazionale viene finanziata con dei programmi specifici che si trovano all'interno di un sito che si chiama Europeide, che poi andiamo a vedere, e che sono interessanti perché praticamente vanno a finanziare l'ambito culturale. La differenza tra questi programmi di natura di cooperazione e gli altri che vi ho fatto vedere fino a questo momento è che mentre negli altri i partner che devo individuare sono all'interno dell'ambito europeo e non perché posso comunque scegliermi dei paesi che sono in preadesione, per esempio, se il bando contempla, in questo caso se decido di presentare un progetto all'interno di questo servizio che si chiama il servizio europeo per l'azione esterna, devo per forza avere come partner dei paesi che non sono europei perché se decido di andare a presentare un progetto paesi europei, mi riferisco all'Asia, all'Africa, quindi se decido di andare a presentare un progetto in Tunisia, ovviamente il mio partner non sarà un partner, può essere anche un partner europeo, però fondamentalmente il mio partner è un'organizzazione, è un'autorità locale del paese in cui ho scelto di realizzare il mio progetto. Il principio, che sta l'obiettivo, diciamo, principale, fondamentale per la Commissione Europea è quello di portare, di aiutare questi paesi e di portare cultura, democrazia, quindi ovviamente il mio progetto deve essere realizzato là e la ricaduta diretta è su questi paesi. Sono infatti programmi di natura geografica, quindi la Commissione ha creato questo database, che si fa appunto Europeid, al cui interno, adesso ve lo farà vedere, ci sono praticamente tanti gli stati, cioè suddivisi in maniera geografica tra paesi dell'America Latina, paesi dell'Asia, paesi del Medio Oriente, dell'Africa e ovviamente sono programmi tematici che alcun interno hanno come priorità principalmente, dicevo prima, l'uguaglianza, la democrazia, ma anche la cultura, quindi lo sviluppo di servizi culturali, di teleindustria culturale, ma anche la crescita, la formazione, quindi sono tematiche che all'interno di questi programmi troviamo spesso e volentieri. Un bando aperto, ad esempio, che ho trovato, appunto riguarda il Nepal e ha come argomento, si intitola appunto Organizzazioni per la Società Civile per una migliore esiliente di esclusiva, inclusiva formazione, quindi il fatto di sviluppare delle società inclusive e di sviluppare la formazione, questo significa che le azioni che andranno a finanziare questo bando, sono azioni che mi mettono nelle condizioni, se voglio presentare un progetto, di fare io stesso, di prevedere, diciamo, nel mio progetto la formazione a quelli che saranno i formatori del paese e oppure andare, diciamo, a creare le condizioni affinché i pacchetti formativi di quel paese vengano analizzati e sviluppati da me attraverso appunto il progetto stesso, quindi capite che ancora una volta sono progetti che la cui ricaduta diretta è in quel paese, quindi devo pensare sempre in un'ottica di sviluppo del mio progetto, non qui, ma ovviamente in Nepal. a Grazie a tutti.